Oggi abbiamo un video particolare, abbiamo un video particolareggiato, particolareggiante Hola hermanito, sono G7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo non di calcio-mercato, non di voci di mercato ma di ipotesi di mercato, di quello che farei io se fossi Cristiano Giuntori se fossi Aurelio De Laurenti, Luciano Spalletti o chi che sia per l'anno prossimo nel Napoli ma prima di farlo ragazzi, come sempre, voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio ragazzi mi riferisco ovviamente al numero 10, il numero 10 rappresenta il futuro ed è completamente gratuito, andate a scaricare dal link in descrizione che non ve ne pentirete ragazzi veramente andate tutti quanti unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione numero 10 che vi garantisco che non ve ne pentirete tra l'altro a breve arriveranno dei miei contenuti esclusivi su quella piattaforma detto ciò, avete visto dal titolo qual è la domanda? la domanda è cosa farei nel caso in cui il Napoli scedesse Victor James Ozyman quest'estate? chi comprerei nel caso in cui dovesse partire Victor James Ozyman quest'estate? allora, innanzitutto partiamo da questa probabilità, da questa eventualità un'eventualità abbastanza probabile ragazzi anche perché quest'anno si conclude il triennio di Victor James Ozyman, il primo triennio, noi sappiamo che il Napoli ammortizza i cartellini a quote decrescenti quando si tratta di contratti quinquennali al triennio, al terzo anno sono già ammortizzati al 90% e quindi diciamo che tutto quello che entra è plus valenza praticamente quasi pulita daranno quel 10% e quindi questo è il motivo per cui il Napoli solitamente tende a cedere solo dopo il triennio e non prima perché altrimenti chiaramente la plus valenza viene meno, tra virgolette cioè vi faccio un esempio se arrivano 80 milioni dopo il primo anno valgono meno al livello di bilancio rispetto a 80 milioni, anche 70 milioni dopo tre anni in ogni caso andiamo avanti 80 milioni sono chiaramente una cifra ridicola ragazzi Ozyman segna praticamente ad ogni partita io faccio un ragionamento molto semplice con le cifre che stanno circolando in particolare dovesse arrivare un'offerta dalla Premier ma io dalla Premier azzarderei di chiedere anche a 160, 170, 180 milioni di euro se non di più perché ce li hanno e li spenderebbero quindi la chiave è lì non quello che effettivamente Vittor Ozyman vale ma quello che vale in questo mercato quello che il mercato chiede quello che il mercato offre è quanto le altre sono disposte a spendere dato che comunque attaccanti fortissimi come Ozyman sul mercato ce ne sono pochi e parto dal presupposto che sarà difficile fare un upgrade dal punto di vista proprio del gioco dal punto di vista dell'apporto che questo calciatore dà alla squadra dall'anno prossimo nel caso in cui se ne dovesse andare perché ragazzi Ozyman è qualcosa di calamoroso quando è in forma è devastante è devastante ed è troppo importante per la squadra quasi troppo a volte avevo già detto troppo però non fa niente è molto importante quasi troppo chi punterei ragazzi chi punterei nel caso in cui dovesse partire Vittor Ozyman c'è un nome in particolare che secondo me è proprio il nome il nome base da fare parlo di un classe 2000 14 gennaio 2000 quindi da poco ha compito gli anni parlo di un altro calciatore del Lille dove veniva per l'appunto Ozyman e ragazzi mi riferisco ovviamente a Jonathan David David è un mio pupillo da tempo ha un valore di mercato chiaramente elevato bisognerebbe spendere tanti soldi soldi che non mancherebbero in caso di cessione di Ozyman ovviamente ma un calciatore praticamente ambidestro con una tecnica sublime non ti spacca la partita come te la spacca Ozyman però a livello di gioco associativo a livello di tecnica europea tra virgolette di quel tipo lì di standard tecnico è sicuramente superiore è un calciatore molto 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 raffinato che può fare tanti gol che fa tanti assist e che secondo me potrebbe veramente fare al caso del Napoli che con Spalletti potrebbe fare quel passo definitivo verso verso quella categoria di top player di attaccante top europeo punterei su di lui ma non punterei solo su di lui è vero che il Napoli in questo momento ha un reparto d'attacco molto importante però chiaramente il reparto d'attacco è anche reso importante da Vittor Ozyman con Ozyman tutti gli altri sembrano ancora più forti questo è un discorso che ho fatto tantissime volte quando hai Ozyman puoi permettersi di avere un certo tipo di calciatori poi a prescindere Raspadori è fortissimo a prescindere Simeone è fortissimo sono il primo a pensarlo li adoro però io andrei a puntare ragazzi anche sul Rasmus Oilund dell'Atalanta parliamo di uno che ha 19 anni Mancino alto 1,91 poi ragazzi la Danimarca sta veramente sfornando talenti lì davanti a non finire qualità calciatori devastanti ma è un è un giocatore veramente forte associativo una forza della natura è uno che fa golle uno che fa assist è uno che sa cercare il compagno uno che sa andare in profondità è uno che sa venire incontro ed è uno il cui valore di mercato salirà solo ed è uno che ovviamente anche lui è destinato ad una big e quindi il suo cartellino è destinato a salire decisamente non poco e questa è una cosa sicuramente da tenere in considerazione perché se lo si vuole bisognerà chiuderlo prima di subito altrimenti ti trovi in difficoltà e ti trovi a spendere cifre quasi spropositate fuori mercato per il Napoli però io fossi il Napoli andrei a chiudere sia Jonathan David che ovviamente il buon Rasmus Oilund avresti un attacco totalmente rifatto bisognerebbe vedere chi cedere lì davanti probabilmente tristemente mi viene da dire bisognerebbe cedere il ciolito se ne prendi due oppure bisognerebbe spostare direttamente l'aspatore dietro o pensare a un cambio di modulo o pensare a tante altre cose però secondo me comunque Jack deve giocare lì davanti infatti Jack lì davanti magari insieme ad un Oilund può fare veramente cose straordinarie sono sicurissimo al 100% di questa cosa io punto tantissimo Jack nonostante in questo momento se ne parli poco perché non è che sia in questo momento al centro dei riflettori sotto i riflettori perché ci sono altri calciatori ma l'ho detto anche in un video per me Jack sarà una delle chiavi di questa seconda parte di stagione di campionato in ogni caso Jonathan David e Rasmus Oilund sono i miei due nomi come posto Simen perché per me se devi cedere a Simen o ne prendi uno fortissimo è vero David lo è e in realtà lo è anche Oilund o ne prendi due e se ne prendi due veramente forti fai una giocata veramente di altissimo livello secondo me detto ciò ragazzi dovresti spendere tanti soldi probabilmente per Oilund una trentina di milioni se non addirittura di più con quello che sta facendo dovrai spenderli per Jonathan David 60 70 forse qualcosina in più dovrai spenderli però se ti entrano tanti tanti soldi da Victor Rosimè non lo puoi fare detto ciò ragazzi mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete facebook instagram twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche i jazzo de shorts ah non ha bussato invece ha bussato il mio canale pubblico teleclippo venti conici ma entriati nel canale i tuoi preferiti ragazzi noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta la vita forza Napoli